Chi fa da sé, fa 3x3, 11. Ma qual è il più grande insetto mai esistito? Lo squalo balena! Questo chi ha adesso? Lui. Il tenente Kojak, detto l'orso di Manhattan. Ma te sei una crappa pelata! Le patate sinc'altro. Poverito, è un po', come dire, barlocca. Bim, bum, bam. Da lunedì a sabato alle 16, su Italia 1. No, 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 no.